Torna in carcere Claudio Vaiana, indagato insieme con il fratello per il duplice omicidio della sorella e del cognato. Sempre più attesa per la nuova giunta di Alcamo. Prossima settimana azzeramento e nomina del nuovo esecutivo. Intanto rumors dicono che il sindaco sarebbe pronto a ritirare l'idea della giunta a costo zero. Opere di urbanizzazione ad Alcamo si impennano del 10%, il comune vara l'aumento. Si era persino pensato ad incrementare del 25% provvedimento rientrato secondo gli uffici per errori di calcolo. Paura in una villetta alla periferia di Partinico. Un branco di randaggi cerca di aggredire un ragazzino salvato in extremis dal padre. Per due giorni la famiglia costretta a barricarsi in casa per paura di essere assalita. Palestrate annullate le maxi sanzioni agli ambulanti morosi. Il comune ritira il provvedimento di raddoppio dell'imposta ad avversare a cozzare due diversi regolamenti. Informazione di Alpo 1 ritorna come sempre puntuale anche per questa nuova edizione. Un bene ritrovati quindi a tutti i telespettatori. Apriamo con la giudiziaria. Una condanna a due assoluzioni per due alcamesi e un partinicesi accusati di spaccio di droga a conclusione di un'operazione della polizia di Alcamo e Partinico avvenuta nell'aprile del 2010. L'operazione Parcar portò in carcere 13 persone, 10 delle quali già processate col rito abbreviato col patteggiamento. La sentenza è stata emessa dai giudici del Tribunale di Palermo. Tre anni e mezzo sono stati inflitti all'alcamese Roberto Vitale, 29 anni, difeso dall'avvocato Massimiliano russo. Assolto invece Azize Locou di 33 anni, nato d'Alcamo e residente in Contrada Faranda, difeso dall'avvocato Antonino Vallone e Daniele Coppola, 44 anni, di partinico, assistito invece dall'avvocato Cinzia Pecoraro. La polizia appurò che la rete dello spaccio era molto ampia, con base operativa d'Alcamo e con vendite in numerose città, tra cui Castellammara del Golfo e Trapani in alcuni comuni del Pacano. Con due distinte ordinanze, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, aveva annullato lo scorso 13 marzo le ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal GIP del Tribunale di Marsala nei confronti di Michele Claudio Vaiana, detto Giovanni e Giuseppe Vaiana, arrestati dai carabinieri di Castelvetrano il 16 febbraio dell'anno scorso perché ritenuti gli autori dell'omicidio avvenuto il 24 agosto del 90 in un ovile di Contrada Dionisio a Campobello di Mazzara, di Paolo Favara, 30 anni, e di Caterina Vaiana, 33, cognato e sorella dei presunti assassini. Lo scorso ottobre la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala annullando entrambe le ordinanze del riesame con cui fu disposta la scarcerazione dei due fratelli. Del caso si è pertanto occupata una diversa sezione per il riesame del Tribunale di Palermo che, ritenendo sufficientemente grave il quadro iniziario nei confronti di Michele e Claudio Vaiana, ha disposto nei suoi confronti il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere. Ad incastrarlo ci sarebbero anche varie conversazioni intercettate nel corso dell'indagine denominata Cold Case che avvalorerebbero l'ipotesi del suo coinvolgimento nel feroce e duplice omicidio. Il procedimento relativo al delitto era già stato archiviato quando le indagini ripartirono dopo la richiesta del figlio di Paolo Favara nel 2010 di visionarne gli atti. Emerse una squallida vicenda sentimentale e un'inconfessabile relazione incestuosa ai danni di una bambina di appena 7 anni, figlia della giovane donna trucidata che sarebbe stata brutalmente violentata dallo zio Giuseppe. Il figlio di Paolo Favara raccontò ai magistrati che al delitto aveva assistito la bambina e che la famiglia avrebbe cercato di spostare l'attenzione su Paolo Favara, amante della madre della piccola, che ne era anche il cognato perché sposato con una sua sorella minore. Dalle indagini sarebbe poi emerso che i due giovani furono assassinati lo stesso giorno in cui una ginecologa di Campobello di Mazzara, da tempo deceduta, avrebbe accertato la violenza subita dalla bambina. Gli inquirenti avevano così dato un nome ai presunti assassini attraverso una serie di articolati interrogatori, riscontri e attività tecniche, facendo luce sui complessi moventi che avevano potuto spingere i fratelli Vaiana a commettere il delitto. I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Castelvetrano hanno dunque fatto scattare nuovamente le manette ai polsi di Michele e Vaiana lunedì pomeriggio e lo hanno condotto presso la casa circondariale di Trapani dove attualmente è rinchiuso. Confermato invece è l'annullamento della misura cautelare nei confronti di Giuseppe Vaiana che si trova agli arresti domiciliari per un'altra causa. Momenti di panico ieri su un autobus di linea a Trapani. Giamello Assul, 30 anni di nazionalità tunisina con precedenti e non in regola con il permesso di soggiorno, probabilmente in preda a un raptus amminacciato, armato di coltello, i passeggeri del controllore su un autobus di linea, aggredendo una delle persone a bordo. Ma nel frattempo l'allarme era arrivato a 113, diversi equipaggi della volante hanno raggiunto il mezzo, ormai fermo, in contrada verde rame. Lì il ragazzo è stato individuato e portato in commissariato, già giudicato con rito direttissimo, è stato condannato in regime degli arresti domiciliari. Sempre ieri un altro extracomunitario, Charles Iere, di 34 anni, è stato denunciato a Trapani per danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità. Sempre più attesa, adesso apriamo la pagina della politica, per la nuova giunta di Alcamo. La prossima settimana dovrebbe esserci l'azzeramento e la nomina del nuovo esecutivo. Intanto rumors dicono che il sindaco sarebbe pronto a ritirare l'idea della giunta a costo zero. Tutti aspettano Sebastiano Bombentre che prenda le sue decisioni sull'azzeramento, eventuale azzeramento o comunque il rimpasto della giunta. Una cosa è certa, tanti dicono di volersi mettere da parte, tanti in pratica già lo sanno, a quanto pare, anche se non lo ammettono, che saranno sostituiti. Ma comunque chi ci andrà o chi rimarrà non ha alcuna intenzione di lavorare a costo zero. Così come sarebbe in pratica stata l'idea di Sebastiano Bombentre che molto probabilmente ha già ritirato dopo il suo documento ufficiale di qualche tempo fa. Si attendono dunque le decisioni di Sebastiano Bombentre, si attendono gli incontri delle segreterie politiche, le decisioni soprattutto del Partito Democratico, il partito più grosso che appoggia Sebastiano Bombentre e che lo sostenne alle elezioni quando fu eletto nella prima fase e successivamente nella seconda fase del ballottaggio. I tempi però sono repentinamente cambiati, in poco meno di due anni sono cambiate tante cose, sia sotto l'aspetto politico che amministrativo, ma anche economico e sociale. Bombentre vuole dare una svolta. L'ultima volta che ha fatto il rimpasto in pratica si spostò un po' più a destra rispetto al centro-sinistra che lui aveva voluto e con cui si era candidato. Adesso c'è da vedere chi saranno i nuovi assessori, se ci saranno nuovi assessori, se ci sarà un azzeramento, quanti saranno gli uomini del PD, quante saranno le donne e quanti saranno quelli e chi soprattutto che resteranno della prima in pratica amministrazione di Sebastiano Bombentre. E continuiamo con la politica. Dopo l'ingresso in giunta di Antonio Provenzano al posto di Oresta Lagna, il sindaco di Marsala Giuliano Amo ha redistribuito le deleghe assessoriali. A Provenzano sono state assegnate le deleghe al bilancio, finanze e tributi, polizia municipale, territorio e ambiente, rifiuti e rapporti con il Consiglio. Tra queste le deleghe al bilancio, finanze e tributi e di rapporti con il Consiglio sono state dunque tolte da Antonio Vinci che però viene confermato vice sindaco e si occuperà anche di servizio idrico, patrimonio, sanità, agricoltura e pesca. Allo stesso modo la delega al territorio e ambiente è ora nelle mani di Antonio Provenzano che era stata affidata in precedenza a beni musillanimi. La delega al commercio viene invece affidata all'assessore Patrizia Montalto, mentre restano invariati gli incarichi ad Eleonora Locurto ed Antonella Genna. Opere di urbanizzazione ad Alcamo si impennano del 10%, il Comune vara l'aumento, si era persino pensato ad incrementare del 25% provvedimento rientrato, almeno secondo gli uffici comunali, per un errore di calcolo. Aumento sì, ma non del 25% delle concessioni edilizie. Il Comune di Alcamo fa una parziale marcia indietro e ritira la delibera approvata lo scorso 14 gennaio in cui si stabiliva un sostanzioso ritocco all'insù per il rilascio delle concessioni edilizie. Un atto ritirato, a quanto pare, per un errore di calcolo ammesso dalla stessa amministrazione comunale. Essendosi riscontrati materiali errori di calcolo, si legge nella delibera dell'esecutivo guidato da Sebastiano Bonventre relativamente all'adeguamento del costo di costruzione e di nottemperanza alla disposizione impartita dal Segretario Generale del Comune, l'ufficio ha provveduto alla rielaborazione del calcolo mediante la semplice applicazione dell'incremento corrispondente su quello vigente alla data del 31 dicembre del 2013. L'aumento comunque resta ed è anche abbastanza importante, si parla infatti di un più 10,50% in media. Sono state rivisitate le voci del preziario dei lavori pubblici regionali per verificare caso per caso l'aderenza o meno alle attuali situazioni del mercato e provvedendo, dove necessario, alla sostituzione con altra similare ma più idonea tipologia di lavorazione. Con tali criteri, dalle differenze economiche in euro riscontrate per gli articoli presi in considerazione, sono state ricavate le aliquote percentuali in aumento e da queste ultime è stata calcolata la percentuale complessiva di aumento medio che per l'anno 2013-2014 è risultato pari a un 10,50% compresa a mano d'opera. Inoltre, il nuovo calcolo del costo di costruzione per l'anno 2014 è stato condotto sulla scorta dalla variazione Istat del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel periodo intercorrente tra il mese di giugno 2012 e il mese di giugno del 2013. Il costo di costruzione è dunque salito in maniera davvero irrisoria, passando dai 204,60 euro al metro quadrato ai 205,80. Storie diverse invece per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione. Per gli interventi primari, ad esempio per costruire strade e parcheggi, si passa dai 48,63 euro per metro quadrato ai 53,74, oppure per la rete fognaria da 76,96 per metro lineare a 86,15 euro. Per le opere di urbanizzazione secondarie, attrezzature scolastiche di interesse comune salgono da 156,68 per metro cubo agli attuali 173,13 euro. Le attrezzature sportive e il verde di quartiere subiscono un aumento di 10 euro per metro quadrato. Provvedimento tempestivo quello dell'amministrazione nel ritirare la delibera, che determinava un aumento così esoso. Già stavano cominciando a salire le prime proteste della categoria che lamenta il periodo di crisi. Certamente gli aumenti così consistenti non avrebbero aiutato granché ad una ipotetica risalita. Un comparto è quello edile che ha già chiesto aiuto al comune alcamese attraverso la stipola di un protocollo d'intesa nei mesi scorsi, nel quale si è impegnata l'amministrazione a sollecitare alle ditte vincitrici degli appalti pubblici all'assunzione di mano d'opera locale. Recentemente non poche polemiche si sono scatenate in consiglio comunale per la bocciatura di una mozione presentata dal movimento ABC che prevedeva una serie di agevolazioni per il settore edile e anche per i cittadini che intendevano investire nel mattone. Una vittoria per tutto il territorio e i suoi abitanti. Questo è il commento dell'amministrazione comunale di Petrosino sulla questione alle mera SRL. La ditta extrapas, sita incontrata Ferla, di proprietà della distilleria Bertolino di Partinico e Operante, nella trasformazione e commercializzazione di alcolici e dei suoi derivati, ha ritirato la richiesta di modifica delle emissioni nocive, limitandosi a chiedere e ottenere solo la voltura dei decreti autorizzativi del 2005 e del 2007 rilasciati precedentemente alla Trapas. Paura in una villetta alla periferia di Partinico, un branco di randaggi cerca di aggredire un ragazzino salvato in extremis dal padre. Per due giorni la famiglia è costretta a barricarsi in casa per paura di essere assalita. Un'intera famiglia è costretta a barricarsi in casa per 48 ore perché è assalita da un branco di cani. È successo alla periferia di Partinico e incontrata a podere reale, protagonista un intero nucleo familiare che risiede in un'abitazione della zona. Solo grazie all'istinto del capo famiglia, Francesco Pellerito, è stata evitata una disgrazia. Distinto si è infatti buttato a capofitto in mezzo al branco di cani, strappando il figlio di 15 anni che stava per essere azzannato. Poi la corsa dentro casa. Da quel momento è stato un incubo, racconta l'uomo. Dieci cani randaggi mi sono entrati dentro casa a ferma e ho salvato mio figlio da un'aggressione solo per miracolo. Ho avuto paura per me e per la mia famiglia. Solo l'intervento dei vigili urbani e dell'assessorato comunale alla sanità ha fatto tornare la situazione alla normalità con l'allontanamento dei cani. In città oramai il fenomeno del randagismo ha assunto proporzioni dilaganti. Appena qualche settimana fa un giovane fu aggredito in Vianini-Cassarà con tanto dimorso di cane al ricovero in ospedale. Negli ultimi anni sono oltre una decina i casi più o meno gravi di aggressione di randaggi. Il più grave sicuramente nel 2010, quando ad essere assalito fu un bimbo di due anni che si trovava seduto su un carrello della spesa a Fenafuorium in supermercato in compagnia dei genitori. Il piccolo, dopo che un randaggio gli saltò addosso, dovette fare ricorso ad un'operazione maxillo-facciale a Palermo per le gravi ferite riportate in viso. Ma ci furono anche diversi ciclisti, motociclisti e anche pedoni finiti in ospedale per l'aggressione di alcuni cani randaggi, in tutti i casi denunciati alle forze dell'ordine dal comune. Episodi che fanno il paio con una catena altrettanto numerosa di casi di avvelenamento di cani. Soltanto negli ultimi mesi in città sono stati sei cani ritrovati senza vita o con chiari segni di avvelenamento, tutti denunciati al comune dalle forze dell'ordine. Evidentemente qualcuno impaurito vuole in questo modo farsi giustizia da solo. Intanto resta ancora al palo il completamento del canile comunale, i cui lavori sono in fase di chiusura ma bloccati a causa di problemi di carattere economico-burocratico che sembra che siano in via di risoluzione. Una struttura che non è certamente la panacea di tutti i mali ma che potrebbe attutire il fenomeno. Intanto gli addetti ai lavori non possono far altro che dare qualche consiglio ai cittadini per cercare il più possibile di evitare aggressioni di animali. Il primo consiglio che noi diamo è quello di non scappare. Un altro consiglio che noi diamo è quello di non guardare il cane negli occhi. Nel linguaggio canino guardare l'animale negli occhi è un segno di sfida per cui si innescano dei comportamenti per cui il cane cerca di avere il dominio e può diventare anche pericoloso questo. E poi fondamentale, ci sono per fortuna molte persone che amano gli animali, in particolar modo i cani, ma la prima cosa che fanno è calarsi sopra i cani con tutto il corpo e per i cani, proviamo a immaginarci che siamo noi il doppio di altezza rispetto a loro, questo tipo di linguaggio fa paura. Quindi la cosa fondamentale è per esempio abbassarsi, approcciarsi lateralmente con il cane, quindi dando il fianco, mai accarezzarlo sulla testa perché provoca molto fastidio ai cani, al contrario di quello che si pensa. Il commissario d'acta dello IACP di Trapani, Rossanna Conti, ha esaminato e approvato la delibera relativa al regolamento per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2014-2016, esensi della legge che reca disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Si tratta, spiega il commissario dell'ente, di un atto di grande rilevanza. E adesso parliamo invece di Balestrate, dove sono state annullate le maxisanzioni agli ambulanti morosi. Il Comune ritira il provvedimento di raddoppio dell'imposta da versare e accozzare due diversi regolamenti. Vediamo il servizio. Cancellata dal Comune di Balestrate, la maxisanzione amministrativa, combinata ai danni degli esercenti che non hanno pagato nel 2012 l'occupazione del suolo pubblico al mercato, ad ordinare il dietro fronte alla direzione tecnico-urbanistica dell'ente municipale. Al momento sono stati emessi cinque provvedimenti di revoca attraverso apposite determine, ma è presumibile che a giorni verranno emesse per tutti gli ambulanti che furono sanzionati all'epoca. Un provvedimento di non poco conto dal momento che si parla di sanzioni amministrative pari al 100% dell'importo dovuto al Comune. Una vera stangata che probabilmente avrebbe indotto il commerciante a non poter rispettare termini di pagamento così esosi. La sanzione venne applicata per un ritardo di appena 4 mesi del pagamento del suolo pubblico. Ben 14 sono gli stendisti del mercato settimanale che sono stati sanzionati. Le quote da pagare erano state applicate in base ai metri quadrati. Quella da corrispondere è stabilita dal Comune di 26 euro al metro quadrato. Gli stendisti timorosi avrebbero dovuto corrispondere ciascuno dai 520 ai 1040 euro. Complessivamente il mancato introito per le casse comunali è stato calcolato in 11.336 euro per il 2012 per l'appunto. I commercianti avrebbero dovuto corrispondere il doppio quindi di questa cifra per effetto della sanzione amministrativa applicata dalla loro responsabile di direzione del Comando di Polizia Municipale, l'Ispettore Capo Faro Cusumano, il quale aveva emesso un provvedimento di ingiunzione di pagamento del suolo pubblico. Si fece leva sul regolamento comunale del commercio suarie pubbliche approvato con delibera nel 2000 dall'allora commissaria d'acta del Comune balestratese nel quale veniva espressamente riportata come sanzione per il ritardato pagamento della quota alla maggiorazione del 100%. Ora però si scopre che questo regolamento cozza con un altro testo comunale, il regolamento delle sanzioni amministrative che prevede il pagamento di una somma da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. In applicazione di ciò la direzione tecnica del Comune di Balestrate ha revocato l'ordinanza di ingiunzione al pagamento emessa nel 2012. La sanzione amministrativa da applicare rilevano alla determina il responsabile di direzione Patrizia Pellecchia per il mancato pagamento del canone del suolo pubblico e quella prevista dal regolamento delle sanzioni amministrative e sarà applicata con successiva ordinanza di ingiunzione a carico dei commercianti morosi. Il movimento Trapani Cambio è preoccupato, non si fida della politica cittadina e dei protagonisti del confronto consigliare. Non fa differenza e boccia sia la maggioranza che l'opposizione in seno al Consiglio Comunale Trapanese. La vicenda tale, se si legge in una nota, rappresenta la cifra di una gestione assolutamente priva di coraggio e di idee di una città abbandonata da sindaco e Consiglio Comunale, abbandonata e presa in giro da consiglieri che si dimostrano contrari ad intermittenza ed assenti senza decenza. Maggioranze d'opposizione si mescolano, conclude ancora la nota del Movimento Civico, scambiandosi le maglie. Riprende l'assistenza ai bambini audiofonolesi e ipovedenti delle scuole della provincia di Trapani dopo lo stop di una settimana fa. Riparta il servizio, commenta la CISL, ora però bisogna migliorarlo. Riprende il servizio di assistenza svolto dalla cooperativa Saturno ai bambini audiolesi e ipovedenti che frequentano le scuole di Trapani e provincia. Si tratta di 120 studenti sordi, ciechi e con disabilità psicofisiche più o meno gravi, che erano rimasti privi della figura professionale e degli operatori specializzati indispensabili per garantire la qualità del percorso di studio di questi alunni. Per legge, gli enti locali, in questo caso la provincia regionale di Trapani, sono obbligati a derogare il servizio, il cui blocco era scattato lo scorso 25 gennaio a causa dell'esaurimento delle risorse economiche già stanziate dall'ente al 31 dicembre dello scorso anno e in attesa del nuovo bando di gara per il servizio che scadrà il prossimo 10 febbraio. Gli operatori erano entrati nelle classi il 13 novembre e il servizio era stato garantito fino al 31 dicembre solo tramite una proroga alla cooperativa che quest'anno si è aggiudicata all'appalto. L'attività è proseguita fino a venerdì scorso. Finalmente, dopo le nostre sollecitazioni al commissario straordinario della provincia di Trapani, dichiarano Mimmo Milazzo, segretario CISL Palermo Trapani e Daniela Di Girolamo, segretaria provinciale dello stesso sindacato, i bambini con disagi che non consentono di seguire le lezioni possono usufruire di nuovo dell'aiuto dell'assistente durante l'orario scolastico. Nel corso degli anni la provincia ha provveduto a demanare un bando di gara per l'affidamento del servizio ad enti, cooperative e associazioni, riducendo però man mano le ore di assistenza alla comunicazione da 24 a 18 ore settimanali per ciascun utente, provocando disagi agli alunni che ne usufruiscono e penalizzandone la qualità. Siamo soddisfatti di questo risultato, concludono Milazzo e Di Girolamo, ma siamo consapevoli che vista l'importanza del servizio e della figura professionale di questi lavoratori tanto bisogna fare per rendere ancora più efficiente il servizio svolto. In vista delle primarie per l'elezione del segretario regionale del 16 febbraio, le votazioni per i delegati del Partito Democratico di Castellammare del Golfo si svolgeranno domani presso la sede di Corso Garibaldi dalle 11 alle 13. I candidati alla segreteria regionale sono, lo ricordiamo, Antonella Monastra, Giuseppe Lupo, Antonio Ferrante, Fausto Raciti e Giuseppe Lauricella. Tornano i veleni di Cosa Nostra a confondere i periodi delle stragi di Via D'Amelio e Capaci. Nuovi nomi emergono, ma si tratta di persone tutte decedute. L'impressione è che la verità sia ancora molto lontana. Vediamo il servizio. Il pentito Angelo Fontana che ritratta le dichiarazioni sul fallito attentato alla Dauda, Giovanni Falcone che era in presenza del giudice svizzero da Ponte facendo sapere che si sarebbe inventato tutto, l'altro pentito Franco Di Carlo che fa sapere che alcuni esponenti dei servizi gli avrebbero proposto l'accordo di fermare in un modo o nell'altro lo stesso Falcone. Ora Vincenzo Scarantino che dichiara che i uomini della polizia e dello Stato lo obbligarono a inventarsi una verità falsa studiata a Tavolino dove si autoaccusava della strage di Via D'Amelio dove morirono Paolo Borsellino e la sua scorta. Poi ci fu il periodo anche di Ciancimino che per lungo tempo, parlato di un papello presentato da Rina allo Stato, cardine di tutto questo, era un misterioso personaggio, il famigerato. Signor Franco mai individuato. E poi Rina è intercettato e filmato in carcere che parla con un altro esponente delle organizzazioni criminali. Tutto attraverso interviste rilasciate a giornali, televisioni, la stampa insomma e non a magistrati e gli inquirenti in attesa del processo madre sulla trattativa presunta tra Stato e mafia. Arrivano così le dichiarazioni in classico stile siciliano, le ritrattazioni, accuse e reticenze sul periodo delle strage del 92 e 93 di prima e dopo. Scarantino non dice chi era l'uomo che lo avrebbe minacciato per obbligarlo a mentire. Ciancimino non dice chi era il signor Franco, Di Carlo non dice chi era l'uomo dei servizi che gli propose l'accordo per fermare Falcone. Fontana non diceva che era sottoposta alla firma, non gli aveva orchi insieme. Libertà e nessuno a quanto pare l'aveva scoperto. Tutte non verità rivelate, anzi mezze verità, falsità, magari ritrattazioni, offuscamento delle verità nel più classico modo di Cosa Nostra quando effettua delle azioni di questo genere nelle indagini, quando ci sono indagini molto pesanti, il dire e non dire, l'annuire e il gettare sospetti, lo smentire e l'accusare senza però far nome. Tipico di un comportamento che non potrà che portare a una confusione totale alla fine sulla ricerca della verità. Forse l'unica verità intanto è che per anni l'interesse è stato coprire i primandanti eventuali esecutori e motivazioni delle strage, mischiandola a questioni siciliane. In un periodo di decisioni epocali che il mondo finanziario e bancario internazionale avrebbe preso a breve, dall'introduzione della globalizzazione alla circolazione delle monete e delle persone e poi l'arrivo dal terzo e dal quarto mondo dei paesi dell'Est dopo la caduta del muro di Berlino di tantissimi lavoratori. Soprattutto la preparazione del più grande disastro economico, finanziario e sociale, oltre che politico, che si sta consumando sulla pelle dei cittadini europei l'introduzione della moneta unica dell'euro. Pensare che le stragi furono pensate anche da altri ambienti e non solo da cosa nostra ormai sembra l'unica certezza dunque che emerge da questi 22 anni di indagini, processi, arresti e dichiarazioni. Il vero nocciolo della questione è quanto pare il mondo economico, dunque quello finanziario, i traffici di valuta e di moneta. Tutti i giudici caduti sotto il fuoco della mafia indagavano sui traffici bancari e finanziari di Cosa Nostra. Da Scajone a Rocco Chinnici, da Cercio Montalpa a Livadino, da Saetta a Falcone a Borsellino a Carlo Palermo, uno dei pochi che scamparono all'attentato e stavolta però ci persero la vita una mamma con due bambini a Pizzolungo a Trapani. Le indagini pericolose non si svolgevano dunque indagando soltanto su contadini della manovalanza di Cosa Nostra, come spesso per vent'anni si è voluto far credere, ma sui passaggi bancari, sui risvolti oscuri delle massonerie e delle banche internazionali per i traffici di droga, di armi e di materiale radioattivo e sui legami tra faccendieri, banchieri e politica con Cosa Nostra in mezzo così come le altre organizzazioni criminali del mondo. Martedì 4 febbraio a causa di una interruzione di energia elettrica programmata dall'Enel dalle 9 alle 16 per lavori sugli impianti elettrici nei pressi dei pozzi di San Miceli potrebbero verificarsi disagi per l'erogazione idrica nella borgata costiera e nei quartieri di Mazzara 2, Santa Maria di Gesù e Macara. Ne dà notizia l'ufficio acquedotti del comune di Mazzara del Vallo avvisato dal fornitore di energia elettrica. Il disservizio dovrebbe risolversi nella stessa giornata di Martedì. Adesso parliamo dei termovalorizzatori in Sicilia. La magistratura ha confermato che ci sarebbero stati interessi particolari per la loro costruzione. Da qui partì la guerra politica contro l'allora governatore siciliano Raffaele Lombardo. Se n'era parlato tanto a suo tempo. I sospetti erano stati tanti, le guerre politiche pure. I sospetti adesso sembrano siano diventati realtà. La realizzazione dei quattro termovalorizzatori in Sicilia che provocò anche polemiche con gli ambientalisti era a quanto pare stata incoraggiata dalle allargizioni di ingenti somme di denaro e compravendita particolarmente vantaggiosa dei terreni utili alla loro installazione. Il giro di presunte tangenti sarebbe adesso finito al centro di un'inchiesta della procura di Bolzano. Il sospetto segnò un'intera stagione politica dal 2008 al 2011 e provocò forti contrasti all'interno della stessa maggioranza di centrodestra che aveva vinto le elezioni con Raffaele Lombardo, presidente della regione. Lombardo in pratica si mise di traverso alla installazione e costruzione dei termovalorizzatori. Blocco leader, che era stato concluso con l'affidamento dei mega appalti in precedenza, poi ottenne anche l'annullamento della gara per alcune irregolarità di natura procedurale. Si verificarono una serie di clamorose vicende politiche che modificarono la maggioranza di governo dal centrodestra al centrosinistra, i diversi governi di Lombardo e poi la rottura di Lombardo sia con Berlusconi che con Salvatore Cuffano. Lombardo e l'assessore all'energia e del tempo il prefetto Marino hanno consegnato così un dossier alla procura di Palermo sullo smaltimento dei rifiuti in Sicilia, sollevando dubbi sulla regolarità di alcuni affari. Riguardava proprio la questione dei termovalorizzatori e per spiegare alle sue vicissitudini politiche giudiziari, l'ex presidente della regione affacciò l'ipotesi che avessero voluto fare le pratiche a pagare per il suo dissenso alla realizzazione dei termovalorizzatori. Nemmeno dalle parti più vicine all'ambientalismo si arrivò poi ad aiutare Lombardo, si parlò anche di un Lombardo, poteva anche finire in carcere. Poi alla fine il grande business dei termovalorizzatori in pratica potrebbe aver fatto saltare i nervi a qualcuno. È la stessa natura della scelta, ben quattro mega impianti che destò perplessità realizzando gli inceneritori termovalorizzatori. La Sicilia poi avrebbe dovuto importare montagne di rifiuti con ricadute ambientali molto pesanti. Maria Tiziana Norrito di Mazzara del Vallo ha partecipato e vinto 100 mila euro nel corso del programma di Rai 1 Affari Tuoi condotto da Flavio Insinna. La donna ha oltretutto sfiorato il colpaccio, infatti era in possesso del pacco da 250 mila euro ma alla fine ha accettato l'offerta della produzione Rai. Un'altra notizia in breve, l'amministrazione comunale di Erice con la collaborazione dei componenti del nucleo di valutazione dell'ente Matteo Giurlanda e Riccardo Pellegrino ha organizzato l'evento dal titolo Trasparenza etica e pubblica anticorruzione la gestione del rischio a servizio del cittadino che si svolgerà il 7 febbraio con inizio alle 9.30 presso l'ex convitto Sales di Erice. L'iniziativa sarà l'occasione per approfondire l'argomento con esperti che per l'appunto sono stati invitati a partecipare e a dare il loro contributo. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpono si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto, adesso vi ricordo che andrà in onda la rubrica Cric del professore Vincenzo Lucchese e subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario. A risentirci. Buongiorno a tutti, questa volta leggerò una determinazione del dirigente la 1944 del 18 di novembre del 2013, impegno di spesa a favore della ditta hotel centrale founding in gruppo SRL in occasione della visita di una delegazione della Giordania. Allora, di che si tratta? Il capo di gabinetto, considerato che è stato comunicato a questa amministrazione che in data 20 novembre 2013 sarà presente ad Alcamo una delegazione del Regno di Giordania interessata alla conoscenza delle produzioni locali per eventuale accordo di collaborazione commerciale, tenuto conto che della delegazione fanno parte 5 persone del governo giordano e che è intendimento di questa amministrazione provvedere al pernottamento presso un albergo della città, ritenuto altresì organizzare per il 20 di novembre una cena con rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle categorie produttive, determina di impegnare la somma di 1.110 euro, IVA inclusa per il servizio di pernottamento e 20 cene con imputazione al capitolo quello che è. Di affidare alla fornitura di che tratta? SRL hotel centrale founding group con sede via Giovanni Amendola numero 24. Quindi praticamente un pernottamento per 5 persone più 20 cene compreso alcuni dell'amministrazione comunale e alcuni operatori economici. Andiamo avanti e parliamo invece dell'affidamento, questa è una determina del dirigente la 2.243 del 24 dicembre 2013, affidamento alla ditta Cielo Servizio Società Cooperativa Alcamo per il servizio di trasloco del centro per l'impiego di Alcamo. E allora di che si tratta? Si tratta che è stata recessa l'allocazione di via Ogo Foscolo che il comune pagava l'affitto e quindi c'è stato un trasloco dalla via Ogo Foscolo al viale Italia. E allora per trasportare queste suppellette è stata incaricata la ditta Cielo Servizio Società Cooperativa per un importo di 5.350 euro. E quindi diciamo questa ditta per questo trasloco da via Ogo Foscolo a via l'Italia ha voluto 5.350 euro. Ora io dico non si poteva fare il trasloco con mezzi propri ma naturalmente qui cosa c'è scritto? Che siccome c'era l'urgenza allora si doveva scegliere una ditta veloce perché se no se il trasloco avveniva dopo una certa data il comune doveva pagare bla bla bla. Però voglio dire queste cose si sanno prima non è che all'improvviso uno dice io non voglio più pagare l'affitto a questa ditta perché ora ho un locale quindi devo fare il trasloco. Non è che queste cose si decidono all'improvviso. Quindi questa secondo me è una mia opinione. Non regge il fatto che ci sia questo estremo dell'urgenza perché doveva farsi il trasloco. Queste cose si pensano prima ma come? Con tutti questi collaboratori civici, con tutte queste collaborazioni che ha il sindaco c'è sempre questo imprevisto della imponderabilità oppure dell'urgenza, dell'estremo urgenza. Io non ci credo all'estremo urgenza. Comunque spendiamo, abbiamo spesso 5.000, 5.000, cos'è? Adesso non me lo ricordo più, ah 5.350 euro per questo trasloco quando lo si poteva effettuare secondo me con le persone che noi abbiamo a disposizione presso il Comune. Va bene, anche per oggi abbiamo trasmesso come si suol dire. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e ci risenteremo la prossima volta. Grazie a tutti.